Mio caro club, vi convoco tutti per una nuova avventura. Benedict e il numero due erano in viaggio in Europa. Seminavano indizi per una caccia al tesoro. Ma il signor Benedict e il numero due sono spariti. Li troveremo. Benedict ha creato una serie di indizi per condurci dove si trova. No, è pericoloso. Facciamo sempre cose rischiose. È la nostra firma. Io ci sto. Anch'io voglio spingermi al limite dell'esperienza umana. È il signor Eldy Curtain. Lui. Richiedo il nostro rilascio immediato. Perché siamo qui? Non vedo l'ora di illustrartelo. Ha rapito il signor Benedict e il numero due. E ora dà la caccia a noi. Bella mossa. Anch'io rapirei noi. La sua ultima impresa. Dicono che riesca a rendere felice chiunque. Non riesco a controllare ciò che dicono. Ma sì. Ci riesco. Quanto distiamo dai ragazzi? Ritroveremo. Non ci resta molto tempo. Vai adesso! Vai adesso! Hanno dimostrato di essere i miei unici veri avversari. Soli. Possiamo fare qualsiasi cosa. Ma dobbiamo agire insieme. La misteriosa accademia dei giovani geni. Non abbiate alcuna pietà. Ok. Siamo tornati. Beh, ispira fiducia. Noi. 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 Grazie a tutti.